Nuovamente a rischio processo una famiglia di imprenditori locali, padre, madre, figlio, amministratori di una società leader nel settore della produzione e vendita di macchinari per la pulizia di superficie, accusati di aver commesso frode fiscali e reati societari, accumulando così un patrimonio illecito complessivo di oltre 3,7 milioni di euro. È stato notificato infatti un avviso di chiusura di indagini preliminari nell'ambito dell'inchiesta SuperClean avviata nel 2022 dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria diretti dalla procura della Repubblica di Pescara. Partite da una querela dei soci di minoranza, le investigazioni hanno fatto riemergere il sodalizio criminale e professionale esistenti tra i due amministratori principali, moglie e marito, che con la complicità del figlio titolare di un'altra ditta sono sospettati di aver indebitamente prosciugato le risorse finanziarie delle casse societarie. Due le aziende compiacenti, prive di assoluta operatività, una di proprietà dei coniugi, l'altra riconducibile al figlio. Il metodo, l'utilizzo di fatture false, secondo l'accusa, per operazioni commerciali mai avvenute, ha lo scopo di drenare ulteriori 250 mila euro dalle casse aziendali. L'ipotesi di addebito delle fiamme gialle supportate dagli accertamenti rispettivi eseguiti avevano già portato alla denuncia dell'intera famiglia di imprenditori alla locale autorità giudiziaria e al provvedimento di sequestro amesso dal GIP del Tribunale sulla richiesta della Procura della Repubblica di Pescara, con apposizione di sigilia, conti correnti, appartamenti, orologi di marca e auto di lusso per oltre 3,5 milioni di euro.